Se vi ricordate, in una delle primissime puntate, quando ancora parlavamo dell'esposizione, vi abbiamo proposto un semplice esercistietto che riguardava il tempo di scatto. L'esercistietto consisteva nel far cadere un oggetto nell'acqua e con la reflex, usando un tempo di scatto molto molto breve, un millesimo di secondo, un due millesimo di secondo, anche meno, si doveva cercare di fermare l'oggetto, ghiacciarlo nel tempo per avere un effetto un po' particolare che piace a molti. In molti poi ci avete scritto dicendo, eh, io ho provato a fare l'esercizio però la foto veniva tutta nera, era molto buia, eccetera. Questo perché? Beh, se ci pensate il motivo è molto semplice. Se si scatta ad un millesimo di secondo, un due millesimo di secondo, stando in casa, dove la luce che abbiamo è, sì, può essere anche forte, se siamo molto vicino alla finestra, ma generalmente è molto più debole che quella che si ottiene fuori, in strada, in una bella giornata di sole, un millesimo di secondo, un due millesimo di secondo è un tempo strettissimo e la luce che attraversa la lente arriva sul sensore e viene catturata in un tempo così breve è molto poca. Diciamo che un millesimo di secondo, un due millesimo di secondo sono tempi che si possono usare solo quando si è in pieno sole. l'unica eccezione potrebbe essere usando delle luci da studio molto, molto forti o dei fari oppure stando attaccati ad una finestra estremamente esposta al sole, altrimenti in un ambiente chiuso a un millesimo di secondo avrete sempre buio, indipendentemente da come imposterete la macchina.